Gli ingranaggi sono probabilmente i dispositivi più diffusi nei sistemi di trasmissione del moto. Li troviamo in applicazioni nelle quali devono essere trasmesse grandi coppie, come questa ruota dentata di una grande pressa, oppure in applicazioni di meccanica fine, come questo orologio meccanico, o, su scala ancora più ridotta, nelle microtecnologie. Vediamo qui una ruota dentata realizzata con tecnologia di litografia profonda con luce di sincrotrone presso il Laboratorio Elettra di Trieste dal professor De Bona dell'Università di Udine. Come vediamo, in questa ruota dentata i denti hanno uno spessore dell'ordine delle decine di micron e una finitura superficiale dell'ordine dei nanometri. Gli ingranaggi vengono utilizzati per trasmettere il moto fra assi aventi differenti possibili posizioni relative. Possiamo trasmettere il moto fra assi paralleli, come in questo ingranaggio cilindrico. In questa immagine, come nelle successive, sono evidenziati gli assi e i versi di rotazione delle ruote dentate che compongono l'ingranaggio. Possiamo trasmettere il moto fra assi incidenti, come in questo ingranaggio a vite. Gli ingranaggi trovano applicazione nei settori più svariati. Per citarne alcuni, produzione dell'energia, mezzi di trasporto, dispositivi di movimentazione e sollevamento, macchinari industriali, robotica, strumentazione. Vediamo alcuni esempi. Qui possiamo vedere un riduttore a due stadi di uso industriale. Qui invece un cambio di velocità automobilistico. E sempre rimanendo nel campo autoveicolistico, possiamo vedere il mid-engine transaxle della Ferrari F360 e qui il riduttore della sale posteriore di un piccolo veicolo a trazione elettrica. Passando dal settore automobilistico a quello aeronautico, possiamo vedere in questa immagine un particolare della scatola ingranaggi del motore PV150 e, in quest'altra immagine, il riduttore del sistema di azionamento dello stabilizzatore orizzontale del velivolo Airbus A380. Un campo d'applicazione completamente diverso è quello di questo riduttore che viene utilizzato in un dispositivo di sollevamento di una piattaforma petrolifera. Le ruote dentate che compongono gli ingranaggi sono sovente realizzate con materiali metallici, ma possono essere costruite anche con altri materiali, sinterizzati, compositi, plastici, come è il caso di questo riduttore utilizzato in un contachilometri automobilistico. A volte gli ingranaggi trovano applicazione in ambienti difficili, come possiamo vedere nell'esempio in questa immagine. Quali sono le ragioni per le quali gli ingranaggi sono così diffusi e in settori applicativi così diversi? Beh, le ragioni sono molte, ma essenzialmente possiamo dire che, mediante gli ingranaggi, è possibile trasmettere il moto rotatorio da un asse a un altro, parallelo, incidente o sghembo, riducendo o aumentando la velocità angolare, mantenendo inalterato o invertendo il verso di rotazione, garantendo l'assoluto sincronismo fra le rotazioni delle ruote che compongono l'ingranaggio, e il tutto con un elevato rapporto fra la coppia trasmessa e il volume occupato. Ecco allora che gli ingranaggi sono diventati una sorta di simbolo della meccanica. Troviamo la sagoma della ruota dentata nel logo di industrie e di associazioni industriali. Vediamo gli ingranaggi a volte rappresentati in certe vignette, come in questa, per indicare una persona che sta pensando, o a volte disposti in spazi aperti per dare un'immagine di potenza. Vediamo a questo punto come nascono gli ingranaggi. Gli ingranaggi sono noti da tempi antichi. Il più antico dispositivo ingranaggi conosciuto è noto come il meccanismo di Antichitera, un meccanismo dall'aspetto simile a un orologio ritrovato nel 1901 su un fondale davanti all'isola greca di Antichitera, indicata anche come cerigotto. Questo dispositivo, la cui costruzione viene fatta risalire circa al 90 a.C., contiene in tutto 32 ruote dentate organizzate in modo da riprodurre il moto relativo del Sole e della Luna sullo sfondo delle stelle fisse, come si può vedere in questa animazione che ne ricostruisce il movimento. Perché gli ingranaggi sono fatti proprio come sono fatti? Possiamo dire che sono il risultato di una sequenza logica che inizia con due semplici ruote. Consideriamo le due ruote 1 e 2 e disponiamole a contatto tra loro premendole con una certa forza una contro l'altra, in modo da garantire che nel punto di contatto C vi sia un'aderenza fra le due ruote. Evidenziamo i raggi che uniscono i rispettivi centri con il punto di contatto e facciamo ruotare la ruota 1. Questa trascina la ruota 2 e se tra le due ruote si ha aderenza, l'arco AC descritto in un certo tempo dalla ruota 1 è esattamente uguale all'arco BC descritto nello stesso tempo dalla ruota 2. Di conseguenza, quando la ruota 1 ha compiuto un giro, anche la ruota 2 ha compiuto esattamente un giro. Le due ruote hanno quindi la stessa velocità angolare. Ma attenzione! Le due ruote ruote ruotano in versi opposti. Se la ruota 1 ruota in verso orario, la ruota 2 in verso anti-orario. Con questo semplice dispositivo trasmettiamo quindi il moto rotatorio tra due assi paralleli con un rapporto di trasmissione pari a 1, ma con inversione del verso di rotazione. Proviamo adesso a ripetere lo stesso ragionamento con due ruote di raggio diverso. Facciamo ruotare la ruota 1. Poiché nel punto di contatto fra le due ruote si ha aderenza, l'arco AC descritto in un certo tempo dalla ruota 1 è uguale all'arco BC descritto nello stesso tempo dalla ruota 2. Ora però i raggi R1 e R2 delle due ruote sono diversi, per cui sono diversi gli angoli θ1 e θ2 descritti dalle due ruote. Troveremo che θ1 uguale AC su R1, θ2 uguale BC su R2 e poiché AC uguale BC risulterà che il rapporto fra gli angoli è pari a θ2 su θ1 uguale R1 su R2. Quindi, quando la ruota 1 ha completato un giro, la ruota 2 ha percorso solo una frazione di giro pari al rapporto R1 su R2. Troviamo quindi un primo risultato che sarà poi valido per tutte le trasmissioni con ruote dentate. Nella trasmissione del moto fra due ruote, quella di diametro più piccolo ruota a velocità angolare maggiore di quella di diametro più grande. A parità di diametro e velocità angolare di quella più piccola, quella più grande ruoterà tanto più lentamente quanto maggiore il suo diametro. Vediamo in questa animazione che al progressivo aumentare del diametro della ruota 2, questa ruota sempre più lentamente. Due ruote premute una contro l'altra in modo da creare nel loro punto di contatto una condizione di aderenza possono quindi trasmettere il moto rotatorio fra due assi in cui il rapporto tra le due velocità angolari, definito rapporto di trasmissione, presenta due proprietà fondamentali. È inversamente proporzionale al rapporto dei raggi, è rigorosamente costante poiché un cerchio ha per definizione un raggio costante. Tutto questo però funziona se si ha perfetta aderenza nel punto di contatto fra le due ruote, ma realizzare questa condizione è nella pratica possibile solo in misura limitata. Consideriamo di nuovo due ruote e portiamole a contatto e premiamole una contro l'altra con una certa forza Fn. Facciamo ruotare la prima ruota attorno al proprio asse. L'aderenza nel punto di contatto porta in rotazione la seconda ruota attorno al proprio asse. Questo certamente vale se alla ruota 2, che in questo esempio è la ruota condotta, non è applicata alcuna coppia resistente. Supponiamo ora di applicare una piccola coppia C2 all'asse della ruota condotta. Per equilibrare il momento rispetto al suo asse, la ruota 1 dovrà trasmettere alla 2 nel loro punto di contatto una forza Ft pari a C2 su R2. Ovviamente una forza di reazione Ft uguale opposta verrà applicata dalla ruota 2 alla 1 e per equilibrare il momento di questa rispetto all'asse della ruota 1 dovremo applicare a quest'ultima una coppia C1 uguale Ft R1. Troviamo come conseguenza che in condizioni di moto uniforme il rapporto C2 su C1 tra le coppie applicate alle ruote è direttamente proporzionale ai raggi di queste ed è quindi inversamente proporzionale al rapporto tra le velocità angolari delle ruote. La stessa potenza che entra all'asse della ruota 1 esce dall'asse della ruota 2 ma con un diverso rapporto fra i suoi fattori. La ruota più piccola gira più in fretta con coppia minore, la più grande gira più ad agio con coppia maggiore. Tutto questo però vale se nel punto C di contatto fra le due ruote si mantiene una condizione di aderenza e quindi se il rapporto fra forza tangenziale e forza normale è minore del coefficiente di aderenza. Se facciamo progressivamente aumentare la coppia C2 aumenteranno di conseguenza Ft e C1 ma quando il rapporto fra forza tangenziale e forza normale raggiunge il limite di aderenza la condizione di equilibrio non può più essere mantenuta, le due ruote slittano tra loro e il rapporto di trasmissione cessa di essere una quantità ben determinata. Come fare per trasmettere coppie maggiori? Una strada è quella di aumentare la forza di schiacciamento fra le ruote ma non si può andare oltre a un certo limite poiché le sollecitazioni nel punto di contatto diventerebbero eccessive. Si possono cercare di impiegare per le ruote materiali con maggior coefficiente di aderenza ma non si riesce ad andare oltre un certo limite poiché per resistere ad elevate sollecitazioni di contatto abbiamo necessità di impiegare materiali duri per i quali il coefficiente di aderenza è limitato. Allora si possono aumentare le dimensioni delle ruote. Aumentando i raggi si riduce la forza tangenziale a parità di coppie applicate. Questa è una soluzione possibile ma porta come conseguenza un grande aumento dell'ingombro e della massa del sistema. Inoltre anche in condizioni di aderenza nel rotolamento relativo di una ruota rispetto all'altra a causa delle deformazioni dei micro slittamenti le velocità periferiche v1 e v2 delle due ruote nel punto di contatto non sono esattamente uguali e la differenza dipende dall'entità delle forze scambiate tra le due ruote. Questa differenza pur essendo molto piccola esclude la possibilità di impiego di queste ruote in quei sistemi dove deve essere mantenuto l'assoluto sincronismo fra le rotazioni dei due alberi. Come fare allora a realizzare la trasmissione del moto rotatorio fra due assi con un rapporto di trasmissione rigorosamente costante tale quindi da garantire il sincronismo fra le rotazioni e con un dispositivo che consenta di trasmettere coppie elevate con ingombro ridotto. La soluzione consiste nel far crescere sulla superficie delle due ruote delle protuberanze equidistanziate. I denti appunto che venendo reciprocamente a contatto consentono di trasmettere la forza fra le ruote come forza di pressione normale alle superfici e non come forza tangenziale di aderenza. Inoltre, poiché i denti creano un vincolo geometrico, il rapporto tra gli angoli di rotazione delle due ruote è rigorosamente costante. Nascono così le ruote dentate che hanno la proprietà di comportarsi cinematicamente come due ruote lisce ideali in perfetta aderenza tra loro ma nelle quali la trasmissione della forza avviene mediante forze di pressione.